Il Comune di Teramo ha attivato il servizio di consegna a domicilio dei generi alimentari e dei medicinali agli over 60. In fase di attivazione, chiaramente sarà il COCA a gestire tutta la procedura. Naturalmente il decreto, prevedendo questa necessità, questo consiglio alle persone che sovrano i 60 anni di età di rimanere nelle proprie abitazioni, è necessario che noi ci attiviamo con dei volontari, sono circa 40 in questo momento, per portare al loro domicilio i beni di prima necessità. Cosa devono fare le persone interessate a questo servizio? Ci sarà un numero di telefono al quale risponderà un operatore che farà delle domande, chiaramente l'indirizzo, le generalità. Sarà anche l'opportunità durante la telefonata di fare delle domande per valutare il rischio che si corre andando al domicilio di quel paziente e quindi in questo modo anche veicolare all'operatore giusto che andrà poi a fare la consegna nelle case di queste persone che hanno la necessità. E' chiaro che in questa fase sarà gestita con la telefonata, poi ci sarà una seconda telefonata dell'operatore alla persona che ha la necessità, verrà detto quale sarà il nome dell'operatore che andrà a consegnare a casa i beni per evitare delle truffe, l'operatore si legherà a casa, prenderà la lista e i soldi da parte del soggetto che ha necessità, farà la spesa e poi porterà a casa scontrino e il resto. Naturalmente noi attraverso questo servizio sceglieremo quale sarà l'operatore più adatto a raggiungere l'abitazione in base ai profili di rischio che ci saranno.